È un mese di aprile particolare per la sanità pesarese, in pochi giorni sono tramontati gli incarichi del numero 1 e il numero 2 della sanità provinciale, la dottoressa Nadia Storti che ha presentato dimissioni e richieste di prepensionamento, alla quale è seguita pochi giorni dopo anche la richiesta di dimissioni dall'incarico di direttore sanitario di Edoardo Berselli. Ne parliamo con il presidente della commissione sanità della regione Marche, Nicola Baiocchi, sono due segnali che inducono la preoccupazione o rientrano in una fisiologica turnazione che una regione Marche deve andare a gestire ora? La dottoressa Storti ha legittimamente chiesto, visto che c'era una finestra pensionistica per poter andare in pensione, una motivazione personale, in quanto personale deve rimanere personale. È difficile che ognuno qui si permette di fare delle osservazioni, delle valutazioni sulle motivazioni della scelta della dottoressa Storti, che ha lavorato molto bene per la sanità delle Marche, non solamente in questa permanenza nel pesarese, ma in tantissimi anni, quindi io penso che la sua motivazione e la sua scelta deve essere sicuramente rispettata. Diversa è la situazione del direttore sanitario Edoardo Berselli, che era un facente funzione ed era già in programma da tempo il suo avvicendamento, quindi è stato fatto, sicuramente ha pensato di dover dare le dimissioni, anche perché ricopre anche altri incarichi. Quindi la Regione Marche farà subito i passi necessari per poter sostituire queste due figure fondamentali per l'asto numero uno di Pesaro. Sicuramente capisco che ci possa essere della preoccupazione, ma la Regione Marche risponderà nel più breve tempo possibile e con forza per cercare di smorzare anche queste polemiche strumentali che vengono ormai tutti i giorni sui giornali. Polemiche strumentali che dagli dirigenti si riflettono anche sulle infrastrutture. Esiste sempre questo cronoprogramma dell'ospedale di Muraglia, che è il nuovo ospedale di Muraglia, che si porta dietro questa necessità di trasloco delle strutture esistenti. Nei giorni scorsi c'è stata un'altra interrogazione in Consiglio regionale per chiedere l'UMI su questi trasferimenti. Qual è la prospettiva? La prospettiva è una prospettiva che si sta andando avanti secondo il programma che si era prefissato, quindi l'assessorato alla sanità dell'assessore Filippo Santamartini e dell'assessore Francesco Baldelli delle infrastrutture stanno lavorando alla cremente secondo i tempi stabiliti. Questo problema del direttore generale e del direttore sanitario non osta che esiste un personale preparatissimo all'interno dell'assessore che stanno lavorando tutti i giorni affinché ci siano ripercussioni in ordine a queste situazioni. Quindi si sta lavorando in maniera veloce, il cronogramma verrà sicuramente rispettato e volevo anche tranquillizzare giustamente i familiari di queste persone che sono di queste persone fragili, che poi sono ospitate all'interno del relessato Masello, quindi residenziali, che sono in un periodo sicuramente di difficoltà e vogliono avere delle certezze e delle risposte. La dottoressa Storti so che è già in contatto con alcuni, alcuni li incontrerò anch'io personalmente, quindi cercheremo sicuramente di dare delle risposte per dare tranquillità a queste famiglie di queste persone che già vivono di per sé una situazione di difficoltà e di fragilità. Sicuramente la regione Marche farà di tutto per cercare di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile e nelle strutture più console in relazione alla loro fragilità.